E poi studiamo sui trattati di scherma antichi, praticamente dal 1400 fino al 1800. La scherma di cui abbiamo già parlato ieri, una scherma non indigna, una scherma che porto davanti con uno studio attento di quelli che sono i trattati di scherma italiani dal 1600 fino al 1800. Abbiamo sentito ieri quello che ci hanno raccontato molto interessante. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.